e bentornati cari amici ascoltatori da Fulvio Venanzini qui su abbraccio il podcast registrato a Monteviascone provincia di Viterbo per chi fosse interessato a questa informazione e insomma anche oggi questo lunedì di maggio nuvoloso triste che palle anche voi sarete abbastanza penso nervosi perché non si può andare in giro a maggio inoltrato col giubbotto l'ombrello che coglioni però beh un motivo in più per stare a casa e fare il podcast appunto anche oggi abbiamo varie notizie da commentare varie storie mie da raccontare e senza dilungarmi io questa è un po' l'introduzione alla sigla come avrete capito vi auguro buon ascolto rimanete sintonizzati perché sennò che cazzo lo faccio a fare il podcast grazie sono reduce da una serata molto molto bella a Milano un'esibizione diciamo molto soddisfacente perché a Milano mi trovo sempre bene c'è un pubblico proprio per la stand up comedy molto molto ricettivo molto sensibile cioè interessato cioè vabbè ma è normale che Milano sia così Milano non è bagnai cioè non è capito la provincia la tuscia e quindi sì se qualcosa di moderno può fare presa da qualche parte sicuramente lo fa presa a Milano infatti a Milano c'è l'unico più o meno comedy club che possiamo chiamare comedy club che è appunto lo zelic vabbè è un teatro storico però è stato convertito alla stand up comedy prima facevano solo cabaret adesso fanno anche stand up non è un vero comedy club come l'intendo l'americana però comunque ecco cioè questo ti fa capire che lì sicuramente c'è più fermento e io mi sono trovato molto bene al Joy Bar anche se purtroppo pioveva come dicevo prima un tempo di merda nuvoloso piovoso mi ha accompagnato tutto tutto il viaggio e un po' all'esibizione perché all'aperto poi giustamente non si è potuto riempire tutto lo spazio perché alcuni punti erano scoperti quindi piovicicava insomma a parte questo divertentissimo il pubblico capiva le battute ridevano partecipavano dico mazza ma dove cazzo stavo non mi ricordavo più come era il pubblico quello proprio accanito che segue la stand up che insomma frequenta i locali di stand up regolarmente va proprio a vedere i comici non è che si trovano lì per caso come spesso mi trovo io in situazioni così ibride random le gente che sta là te guarda può andare bene può andare male nel senso non è gente che sta là perché gli piace la stand up spesso è gente che sta lì per caso per curiosità bisogna cominciare comunque ad educare il pubblico lì è già bello educato in quel locale quindi mi sono trovato molto bene l'unica cosa che mi ha stupito che non conoscevano Gisela la veggente di Trevignano l'unica battuta che non entrava sarà quella io sicuro dico a botta sicuro se parla solo di questa non hanno parlato di Iene se ne parla sui tg ma non solo regionali se ne ha parlato ne ha parlato pure Bruno Vespa dico se non la conoscono lì cioè a Milano comunque non è sempre l'Italia vabbè che è una cosa del Lazio ma in realtà ha trasceso i confini no non sapeva che cazzo era quindi questa cosa è un po' ma ma stupito perché quando uno pensa che le notizie che sente lui de continuo siano quelle che in Italia tutti sentono in realtà in alcuni posti passano e spariscono e vengono sostituite da altri qui invece se ne parla perché giustamente Trevignano Roma ma è talmente assurda no sta storia quindi dico le veggenti la madonna e pure mi se ne ha parlato pure la d'Urso vabbè niente a Milano non ne frega a casa cioè non è meglio da fare ma vea di loro che che se ne dica Milano per me è una grande città cioè ogni volta che ci vado sono contento mi trovo bene culturalmente viva cioè una vera metropoli moderna insomma vabbè niente non è che vi dico niente di nuovo certo abitaccio è il problema se devi lavorare come sempre quello è il problema quando devi lavorare cioè non sei ricco ecco piccolo problema d'affitti cose vergognose però questo è un'altro il discorso se diciamo stai benino e ti può permette di vivere decentemente Milano pure meglio di Roma per certi versi no quindi vabbè ma intanto non ci abbiamo sti problemi ci trasferiamo a Milano Roma o Firenze ma rimaniamo a Montescone per ora va io mi sono sempre andato benissimo gente gentile disponibile generosa alla Lombardia cioè ma molto meglio del Lazio ma guarda che più stronza la gente più stronza a Roma ma datemi retta cioè Milano è il top Milano ma anche che ne so ma da per tutto Mantua ovunque Brescia in generale il nord Italia per me è stato sempre una meta felice insomma una meta prediletta donne simpatiche anche il Veneto Verona vabbè sì c'è un piccolo problema di leghismo lassù però non è certamente il target come mi rivolgo io quindi io in realtà sto bene lassù e ultimamente c'è stato pure un paio di buone notizie riguardo il mondo dello spettacolo della politica il mondo delle molestie perché poi di quelle si parla di molestie di abusi Marilyn Manson che voi avrete seguito insomma tutta la sua vicenda la sua vita molto bene ci fece anche un video su youtube delle accuse da parte di la sua ex Evan Rachel Wood e altre 14 donne di stupro tortura insomma mille accuse agghiaccianti e lui aveva fatto poi aveva denunciato per diffamazione questa ex più le altre donne che hanno partecipato a quel famoso documentario che è uscito l'anno scorso Phoenix Rising e sto coglione ha perso la causa giustamente il giudice ha guardato dice no guarda che qui non c'è diffamazione sta buono e quindi se l'ha presa se l'ha presa l'allegramento in culo perché sono talmente tanta grossa la molle di prove e non ha riuscito a dimostrare che queste hanno falsificato tutto hanno corrotto quello hanno fatto finta di essere e niente Marilyn Manson speriamo se ti vuole che la sua carriera sia finita perché poi non ha fatto più un cazzo giustamente quando cioè qui si parla di cancel culture no? che non esiste ma qui non è che c'è un'accusa c'è una una frase sbagliata ha detto una cosa questa ha 15 donne che ti accusano dei peggiori reati del traffico di esseri umani dei minori, di stupro, di tortura, di tutto cioè o c'è un complotto come alcuni deficienti dei celebrati pensano su youtube e non solo i fan accaniti che non è possibile o c'è un complotto capito? oppure qualcosa di vero c'è adesso è impossibile con tutta la mole poi di roba che è venuto fuori per sua stessa ambizione dei suoi colleghi che questo è palesemente un narcisista disturbato una persona assolutamente tossica e criminale quindi ormai è venuto fare troppa merda e non so se troverà altri ingaggi televisivi altri contratti discografici tanti soldi l'ha fatti già se riesce a evitare la galera uno così con i soldi che c'ha già grasso e cola, già dovrebbe essere felice dato stiamo in un mondo dove con i soldi può fare che cazzo ti pare no? guarda Roman Polanski accusato di stupro no accusato, condannato per stupro in America scappa, è latitante, sta in Europa tranquillo c'ha pure altre accuse di stupro sempre su minorenni e non tocca nessuno, tutti le caglie il culo quando c'è i soldi e l'arte della parte tua capito? non sei una persona comune sei al di sopra di tutto del giudizio, morale e anche della legge e l'altra notizia positiva, sempre affine alla prima è quella della condanna di Trump Trump è condannato in una casa civile per aggressione sessuale a una giornalista questo c'è l'altro 4, ma di più forse di accuse e di cause per aggressione sessuale perché è un vecchio porcone ma basta vederlo Trump fa schifo è un viscito e tutti sanno che Trump è un vecchio sozzone, vecchio e giovane classico, riccone figlio di papà che ha fatto i porci come i suoi avendoci i soldi avendoci noi miliardi, gli strami miliardi e si è permesso tante libertà con donne senza loro consenso appunto e adesso stanno venendo fuori e niente, si è preso sta condanna certo, è una causa civile e quindi non andrà certo in galera però dovrà pagare ah vabbè simbolicamente questo coglione insomma si è preso una bella un bello schiaffo insomma perché poi no, lui doveva essere quello che secondo i teorici del complotto scemi dei quanon e compagnia bella doveva essere quello che liberava il mondo dai pedofili mentre lui il primo schifoso che diceva grab by the pussy le peggio cose proprio il linguaggio più schifosamente maschilista predatorio proprio vabbè ma Donald Trump può far presa solo sui mentecatti Donald Trump solo un mentecatto può avere Donald Trump e pensare che quello sia un eroe no un eroe capito delle donne no delle donne un eroe positivo un eroe dai grandi principi morali no che salva salva il mondo dai pedofili cioè Trump Trump come cazzo è possibile cioè quanti giri dei fa mentali per avere Trump come un simbolo positivo cioè è assurdo no cioè è proprio il cattivo coglione ebbete stereotipato da film e invece no queste le teorie del complotto gli emagnano talmente tanto le le i neuroni le cellule cerebrali che a un certo punto riescono a vedere Trump come come Superman è incredibile sempre parlando di Stati Uniti è una notizia che mi ha veramente disgustato l'ennesima esecuzione pubblica di un poraccio sulla metro di New York proprio dove no si sa che ma pure a Roma insomma gravitano questi personaggi con problemi mentali barboni questo Jeremy non mi ricordo come si chiamava vabbè comunque la notizia la trovate questo era un imitatore di Michael Jackson un impersonatore di Michael Jackson che si guadagnava vivere così ballando però c'era problemi mentali c'era varie accuse vari arresti per molestie insomma c'era dei comportamenti molesti causati dal disagio in cui viveva e dai problemi mentali che c'era questo aveva vissuto per strada da quando c'era 15 anni e niente a un certo punto nella metro un giorno ha dato di matto non so che cazzo ha fatto nella metro non so se urlava minacciava passeggeri finché il classico fanatico ex marine o addirittura marine giovane marine non ha visto ha visto bene di intervenire lo sceriffo lo sceriffo lo sceriffo superman come si dice il rambo della situazione con i deboli perché e l'ha immobilizzata per terra con la choc come si chiama la presa strangolatrice e l'ha tenuto dieci minuti in quel modo soffocandolo uccidendolo non è che l'ha bloccato l'hanno chiamato le guardie no no questo l'ha proprio strangolato mentre la gente guardava sti ebeti ebeti non so come chiamali sti invertebrati non hanno fatto un cazzo hanno ripreso come al solito questo che ammazzava uno in diretta proprio esecuzione proprio sommaria come il famoso george floyd ma almeno lì c'hai la giustificazione che dice quello è un rappresentante della legge poliziotto non posso intervenire se non arresta me è una migliaccata comunque ma quello mi può sparare questo un cretino qualunque che si è messo a fare l'eroe perché evidentemente c'è una mentalità fascista e niente e l'ha ucciso ma è durata un'esecuzione c'è il video io non l'ho visto ovviamente ho visto due secondi ma a quanto pare questo questo questa esecuzione è durata vari minuti tipo 10 minuti una cosa allucinante e però queste cose continuano a succedere perché intanto la vita casualmente questo era nero casualmente forse anche quell'aspetto ha avuto una piccola importanza a questa storia cioè il fatto che fosse nero nero senza tetto uguale la tua vita non conta un cazzo la gente non gli frega proprio una sega mettici poi che c'è l'odio verso questi personaggi che rompono il cazzo sulla meta visto pur io insomma quindi a un certo punto uno dice ma sti cazzi ma questo ha rotto i coglioni l'hanno fatto bene quindi si creano un misto di indifferenza sadismo e di alienazione proprio data dallo smartphone attraverso cui tu guardi questo evento un po' cinicamente un po' ti senti protetto e dici adesso faccio giustizia a questo cosa lo documento si ma da documentare uno che ammazza un altro non servirà un cazzo probabilmente perché poi a questo qui non gli faranno niente perché è pure militare capirai e quindi alla fine che cazzo serve cioè siete in 50 fate qualcosa ditegli lascialo fa qualcosa niente riprendono proprio boh io dico come cazzo è possibile poi io non me lo sono mai trovato ma non starei lì a riprendere uno che ammazza un fregno cioè lo vedi che lo sta strangolando che cazzo sta a fare gli sta a fare una presa tipo MMA in Italia invece ci sono stati gli stati generali della natalità io manco sapevo che esistevano io conoscevo gli stati generali dell'antimafia ma non della natalità cioè già far rita è già una cosa che ti fa pensare subito all'istituto luce al fascismo ovviamente Giorgia Meloni il Papa Francesco ovviamente tutti là a cercare una soluzione al fatto che in Italia se fanno pochi figli aspetta non è che se fanno pochi figli fanno pochi figli i bianchi gli italiani bianchi capito questo è il problema questo è il problema quindi attenzione siccome c'è il rischio sostituzione etica di cui abbiamo parlato o la puttana scorsa qualche puttana fa bisogna convincere queste donne che magari si sono rotta il cazzo deve fare le incubatrici umane vogliono vivere la loro vita magari scelgono di far un figlio solo o di non farlo per niente tocca convincere a fare figli a non abortire a fare figli cioè capito per preservare la razza italiana tutte queste cazzate è assurdo no? beh la Meloni e il Papa Francesco giustamente Papa Francesco il Papa Buono attenzione quando dicono Papa Buono significa quell'altri tendenzialmente non dicono Papa Buono Papa Francesco però lui diciamo è stato messo lì perché Ratzinger come marketing non andava male era troppo vecchio reazionario ma poi in realtà Papa Francesco dietro la sua aria giovanottiana gesuita giovanottiana però pace e amore in realtà è veramente secondo me una persona squallida e stava là mentre poi raccontava insomma parlava di questo problema della natalità che tocca fare i figli perché i preti vogliono che noi facciamo i figli chissà perché io non farò battute le lascio fare a voi bisogna fare i figli e insomma c'è questo problema e diceva appunto che raccontava questo aneddoto che stava facendo una sua solita passerella del cazzo quello che faceva una signora tirata fuori dalla sua borsa un canetto non so che era un ciguardo non so io ho fatto perché padre eminenza come si chiama il papa sua santità mi benedice il mio il mio bambino e c'era diceva c'era un cane e io lì ho perso la pazienza ho sgridato la signora perché ho detto signora con tutti i bambini che muoiono di fame lei pensa al cane ma che cazzo stai a dire papa francese ma che ragionamento è cioè ora questo qui la cosa più ridicola più grottesca è che questo ha preso il nome è di san francesco lui si chiama verso no tra le tante cose soprattutto no per gli animali per le creature il cantico delle creature il lupo del cubio gli uccelli san francesco sant'antonio poi sant'antonio non so di culo a nessuno non si può chiamare papa antonio era brutto invece papa francesco ti chiami papa francesco manco le basi nel mestiere manco sei buono ma fa finta che ti piacciono i cani i cani cazzo cioè pure a adesso Rassing era amicissimo dei cani pure Hitler cioè tutti il cane piace a tutti no? no lui odia i cani odia gli animali è avvelenato questi cani come appena trova l'occasione da addosso ai cani agli animali agli animalisti cioè proprio il dente è avvelenato non so perché infatti dice il figlio vuole a fare vuole a fare il macellaro quindi tutto tutto torna e insomma ha fatto sto discorso insensato proprio da da boomer coglione oh perché oggi pensano i cani non pensano i bambini ma che cazzo c'entra? se io non fo il figlio mi fo il cane che tolgo qualcosa ai figli che cazzo stai a dire? cioè che intendeva quella cosa? qual è la logica? cioè che tu c'hai un cane lo tieni come un figlio cioè lo tieni come animale domestico e che potresti fare con sto cane che danneggia i bambini che muoiono di fame? cioè dovresti tagli il cane da magnà? che dovresti fare? che dovresti fare? non c'ha senso uno deve far deve farse il bambino deve partorire un bambino non deve farse il cane perché se no il papa si incazza perché così cioè non c'ha senso quello che lui diceva al di là di San Francesco e tutto il resto ho un discorso da da baretto da baretto però grande papa grande papa infatti è stato criticato da tutti perché veramente qui il cane mette tutti d'accordo poi mi dirai ah ma questa qui che tratta il cane come un bambino umanizzano i figli vabbè lo sappiamo tutti quando uno c'ha un cane c'ha un gatto lo tratta come un figlio ma che c'è di male? qual è il problema? il problema saranno quelli che invece trattano animali come oggetti quello sarà il problema non ho chi lo tratta troppo bene a meno che dio caro non lo metti non lo metti non gli fai portare la macchina non credo che sia un problema per qualcuno se uno gli mette il cappottino perché c'è a freddo giustamente o gli vuole bene no al papa non gli sta bene capito? ma poi quello che voglio dire cioè che se ci lamentiamo di questo fatto di queste donne che umanizzano il cane pucci pucci ma quello è il target tuo papa Francesco te lamenti quelle che te ranno che te ranno il pane cioè sono quelle se donne mezze così sempliciotte no sempliciotte sì sempliciotte perché una che va a farse bene di il cane non è certamente una mente eccelsa no? perché la benedizione come sapete è una strozzata e lui poteva fare questo gesto finto tanto serve a caso deve fare solo così con la mano non gli costava nulla tutti contenti no ha voluto fare la polemica perché la benedizione che non serve a un cazzo che è un gesto di merda che è senza senso si può fare solo con i bambini non con i cani capito? però se ce la mettiamo di questa che non è una cima però sono quelle che pagano la papa mobile al cane quindi tu papa Francesco sta sputando il piatto dove magni ma vedrai che tra un po' sono state troppe cazzate e l'aborto no e questo no e la gravidanza per altri ovvero quella che chiamano volgarmente utile in affitto no perché bla 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 ma pure i cani guarda che tra un po' sta a perdere pubblico te lo dico papa Francesco un'altra polemica sempre relativa al governo Meloni è stata la fuoriuscita di Fabio Fazio questa colonna portante della tv italiana della RAI soprattutto che da 40 anni popola i programmi televisivi appunto della della RAI e quindi c'è stata questa polemica per cui sarebbero stare le pressioni del governo di destra a spingerlo a dare le dimissioni tanto ha trovato già un contratto penso multimilionario sul 9 sembrava che l'avessero cacciato la Meloni già partita con le purazioni che schifo che vergogna invece semplicemente loro è ovvio il gioco politico è sempre stato così quelli di destra vogliono piazzarci loro e cacciare quelli che che li osteggiano a livello culturale insomma mediatico e quindi in realtà Fazio ha annusato cioè ha magnato la foglia come si diceva hanno usato l'aria che non era favorevole tanto dicendo che questi chi mi fanno fuori per metterci Porro non lo so che cazzo ci metteranno mamma mia Porro Mario Giordano questi qua i loro i loro più i loro giornalisti più fedeli Pino Insegno vabbè quanto pare se ne andrà pure Insegna non lo so comunque Fazio dice gli ha anticipati gli ha anticipati se ha annunciato che se ne andrà bla 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 tanto c'è già questo contratto appunto sul 9 tutti i contenti vabbè diciamo sicuramente non è la Meloni non ama Fazio Salvini già ha stappato lo spumante ha scritto su Twitter belli ciao come un ragazzino di 12 anni giustamente cita i suoi comici preferiti Pio Amedeo io sinceramente che finisce che tempo che fa non sono molto dispiaciuto non me ne frega un cazzo è un programma che mi stavo sui coglioni cioè da lì tizetta a 75 anni arrampicata fa gna 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 sulla scrivania acquario orrenda tra l'altro è una cosa bruttissima vedesse proprio volgare l'immagine veramente quella scrivania acquario per me è l'immagine del potere schifoso vabbè e questa qui ancora che fa la bambina impertinente no Lucianino ma cosa dici mamma mia è una cosa veramente patetica battute le merda un teatrino squadre mi faccia schifo ecco io che non vedo più l'alitizzetto sono contento ma tanto a me è fazio non mi ha mai piaciuto non mi ha mai piaciuto mi è sempre sembrato un pretino sì qualche intervista per carità, certo che è meglio di porro, basta poco culturalmente ma perché il modo le fa, vediamo Cristiano mi ha sempre fatto cagà sì qualche intervista, qualche personaggio grazie al cazzo, ma non mi serve Fabio Fazio per vedere un'intervista buona le vedo 400.000, qualche monologo di Saviano per carità, qualche ospite interessante che dice cose interessanti ma non è Fazio, a parte non capisco perché cazzo c'era quel microfono a gelato, cioè tu stai a fare un talk show tipo Jimmy Fallon, tipo Letterman tipo che cazzo ne so e invece c'è l'archetto microfono quello attaccato alla giacca c'è il gelato, vabbè, e la Rai non riusciva a dare un microfono che gli consentisse di muovere le mani, forse è una certa sua non lo so, ma a parte questo appunto tecnico, cioè quel programma mamma mia, mi sfasciava le mani non lo guardavo mai, cioè per me, sti programmi se ce sono non ce sono, non mi cambia un cazzo certo mi sta sul cazzo che decida la Meloni ma purtroppo se la fate candidata e viene letta, è normale che decidi lei io per me questi programmi possono chiudere tutti c'è la tv, io in televisione guardo Blob qualche servizio delle Iene cioè tra Mediaset e Rai guardo Blob e qualche servizio delle Iene, stop qualche programmetto sulla set ogni tanto tipo appunto Atlantide, Purgatori e basta poi guardo Real Time vita al limite, stop tutto quello che fanno a me mi fa cagare quindi a me mi domando chi cazzo è che nel 2023 ha bisogno di vedere Fazio questi parietti, le battutine l'intervista a quello e a quell'altro ma c'è YouTube, c'è i mille piattoforme c'è la roba da vedere qualsiasi cosa è meglio di quella il vecchio, una tv vecchia pallosa per non parlare poi dei programmi squalli di Rete 4, di Mediaset oppure appunto la Maria De Filippi i vecchi che balano una roba obbriosa io per me era di quel TG pure il TG per me è una cosa anacronistica le previsioni del tempo vabbè non te li guardo su internet quindi per me il problema non esiste poi boh Fazio l'abbiamo preso per culo fino a ieri e ora siccome può essere che ci mettono Porro ci mettono Giordano ci mettono che ne so Paragone allora tocca arrivare da pure Fazio perché comunque Fazio portava soldi ho capito ma a parte ero buono pure io intervista a Bono intervista a Burioni intervista a un premio Nobel cioè non è tanto Fazio no? sì certo diciamo sì a livello economico sicuramente per i sponsor è più buono è più favorevole Fazio che un giornalista a destra improbabile di questi qua sicuramente ma a me è una certa ma che cazzo me ne frega cioè mi interessa semmai la qualità no? se no è come il discorso i maneskine però te fanno schifo però intanto hanno portato tanti giovani a comprare chitarre ma a me che cazzo me frega io non sono azionista della Fender o della Gibson io voglio semmai la musica di qualità non voglio la musica con le chitarre mi frega a cazzo quindi per me che la live faccia i soldi compro ma che me fa schifo dico sì mi so cosa ho detto fino a un certo punto non è una mia capito priorità poi sì ha intervistato personaggi io ho intervistato personaggi di certo spessore sì sì per carità ma ha intervistato pure dei grandi pezzi di merda io ho fatto ultimamente un pezzo su Woody Allen va bene la storia Woody Allen va bene ne parleremo l'altra volta ma ha intervistato per esempio Roman Polaschi che vi ricordo Roman Polaschi è uno stupratore di minorenni latitante che non può rimettere in America se no lo arrestano questo è sì grande regista Rosemary's Baby per carità maestro però de fatto lui è uno stupratore di minorenni condannato e latitante che in Italia tutti gli leccano il culo in Europa pure perché sei un grande maestro poi fa che cazzo le pare e non solo è stato accusato anche da altre tre donne che dicono sempre minorenni di essere state violentate da Polaschi e Fazio l'ha ospitato col suo solito fare così compiacente un po' leccaculistico quella cosa mi ha fatto veramente schifo l'ho fatta presente e qualcuno mi ha risposto sì però l'hanno intervistato in qualità di regista e grazie il cazzo l'hanno intervistato come regista sì lo so che non intervistano la gente in quanto stupratore signor stupratore mi racconti cioè è ovvio che cazzo che obiezione è che sono deficiente lo so che sta lì perché ha fatto dei film perché è un grande regista ma il problema è un altro che questo legittima un cazzo di stupratore di minorenni latitante ricordo condannato e latitante cioè tu stai avallando stai legittimando e compiacendo un personaggio così del genere un personaggio del genere che in America ecco tutti sanno che ha fatto qui non tutti ma diciamo no pure Barbareschi lo difende vabbè Barbareschi ultimamente ha fatto un'altra sua sparata una volta era omosessuale tipo Luca Ragey tipo Luca Ragey è dedicato a lui forse la solita cosa cancel culture questi questi grandi personaggi che vengono cancellati in realtà non vengono cancellati come avevo appena dimostrato perché questo sta sempre in Italia fa il film e fa che cazzo gli pare però tornato al focus al fulcro del discorso personaggio del genere tu lo ospiti cioè tu lo stai legittimando tu lo devi boicottare ma non esiste e invece tutti gli recano un culo perché questo qui ha fatto i film capolavori no gli hanno ammazzato la moglie ma quello non c'entra un cazzo cioè se fosse un fabbro un cazzo di falegname operaio metalmeccanico condannato per stupro latitante tu non lo ospiteresti buonasera tappeto rosso tu gli sputeresti in faccia questa è la differenza quindi che cazzo mi hanno a dire eh sì però come regista come artista è giusto ospitarlo no non è giusto non è giusto perché quello è un criminale prima di tutto che cazzo mi frega se ha fatto bei film quello non c'erebbe stare lì no cioè che deve fare de peggio uno per essere peggio de porro cioè che deve fare uno peggio che intervistare in modo compiacente un personaggio giovane condannato per stupro latitante superatore dei minorenni eh però vabbè nessuno è perfetto cioè siamo a sti livelli mi sembra di parlare coi dementi proprio rimanendo sempre in ambito televisivo ultimamente c'è stato l'Eurovision appuntamento diciamo trash pseudo trash che con i miei amici ogni tanto abbiamo preso a guardarci l'anno scorso sicuramente è meglio del Sanremo e meglio del primo maggio te lo guardi come evento e come circo come evento diciamo di come si dice di di folklore ecco però in quel folklore qualche magari qualche bella canzone può venire fuori raramente no magari quell'inglese solitamente è un circo dei canzoni infatti pure quest'anno un circo delle canzoni tutte uguali tutte molto simili e soprattutto con canzoni copiate ogni canzone ricordava una canzone famosa quindi quest'anno peggio che mai peggio che mai a parte un gruppo che non ricordo sempre un gruppo dell'est però non ricordo di dove cazzo erano che erano gli elio storietese tipo gli elio storietese lettoni non mi ricordo ucraini non mi ricordo molto sperimentali diciamo che chiaramente non ce li ha incolati nessuno facevano una musica quasi comica ma poi per il resto vabbè Mengoni non ho capito poi non l'ha più seguito ho visto così in pardone quella esibizione quella sera da lì poi non so se ci sono state altre serate finali ho visto Mengoni Orgoglio della Duscia che come sapete Mengoni è nato qui vicino Roncillione anche se i roncillionesi in realtà non si sentono della Duscia cioè non si sentono viterbesi ma si sentono più romani anche se Roma è più lontana però vabbè una forma di snobismo forse è per questo che è venuto fuori un cantante diciamo bravo nel suo genere pop vabbè nazionale popolare virtuoso in quel modo che a Viterbo la musica a livello musicale è molto molto scrauso invece Roncillione è già venuto fuori una pop star forse è per quello perché non si sentono i viterbesi c'hanno altri influssi c'hanno un'altra mentalità non lo so comunque sono Megoni personaggio simpatico alla fine a me sì per carità meglio lui che Maneskin a me non fa quella musica lì vecchia cioè comunque tradizionale italiana melodica bene quella voce a me dava un po' mi scassa le pale perché è troppo caricata su quella quello stile black no troppo tutti quegli acuti tutti quelle tutti quelli gorgheggi che non li fa più manco Giorgia esagera secondo me però per carità tecnicamente mostro perfetto canzoni canzoni medie io a un certo punto devo sentire sempre questo cioè questa l'ultima cioè c'è quella voce che non mi risulta mai non dico che è brutta il timbro però è un timbro un po' troppo artificioso non lo so come definirlo non mi risulta mai naturale quel timbro a me quasi come se lui si sforzasse di suonare di suonare appunto di risultare black diciamo vabbè è un po' l'evoluzione o la l'esaltazione l'esagerazione di quello che fu Alex Baroni che introdusse quel tipo di canto in Italia no? alla Stevie Wonder Black Soul R&B e però Mangoni a parte non c'è le canzoni belle come come Baroni ma è troppo quanto so bravo sborone però mi sta pure simpatico quindi per carità ma ce ne fossero di Marco Mangoni veramente poi vabbè vince tutto lui vince Sanremo qui ha preso il premio della critica ha sbandierato con la bandiera col tricolore e con la bandiera arcobaleno quindi io guarda non mi sento di criticare di criticare Mangoni non lo posso criticare cioè capisci ha il suo spazio nella musica italiana giustamente sacro santo che ce l'abbia musica pop ben fatta ben fatta alla fine uno che sa cantà molto bene cioè è uno che fa un mestiere capito non è il solido cantautore del merda pseudo indie cialtrone che fa quattro accordi stonando che si sente un poeta questo fa il suo mestiere di interprete non so se scrive pure le canzoni sicuramente scrive pure lui mezzo cantautore e quindi va bene che vinca lui poi a me mi frega un cazzo se vince l'Italia cioè come ho detto più volte il patriottismo applicato all'arte è una doppia bestemmia già il patriottismo del suo è ridicolo applicato pure al pallone figuriamoci all'arte quindi per me è indifferente che vinca o non vinca però ben gone a me sta simpatico e parlando sempre di artisti musicali e non solo mi sono rivisto queste sere Buffalo 66 il film debutto insomma cult del cinema indipendente americano di Vincent Gallo Vincent Gallo personaggio che voi forse conoscerete personaggio veramente controverso da una parte talentuoso talentuoso poliedrico geniale a suo modo dall'altra parte un matto un matto narcisista mezzo fascio repubblicano razzista non si sa maschilista cioè è un personaggio che mi manda i matti perché veramente riprendo questo film che c'è curiosità di rivedermelo perché vabbè sono passato nel famoso viaggio negli Stati Uniti mi sono sono passato a Buffalo abbiamo fatto un giro a Buffalo io ho visto qualche luogo dico magari lo riconosco qualche luogo dei film invece non ho riconosciuto un cazzo rivedendo il film dico vediamo se riconosco qualcosa invece è girato tutto le notti mezzo piove non ho riconosciuto una sega poi Buffalo non è che è Viterbo è bella grossa comunque c'è tornata la curiosità di rivedere questo film anche perché poi Mizzagallo l'ho sempre come persona quattro pare è un pezzo di merda cioè politicamente mi disgusta ma come artista devo dire che come cantante e compositore ho fatto belle cose cioè c'è una bella sensibilità poi lui c'ha tutta una storia che è partita dall'hip hop ha fatto un gruppo di rock sperimentale con Basquiat che si chiamano The Grace Grace me ricordo vabbè Grey mi sembra c'è il disco su YouTube molto interessante molto sperimentale molto con musica mezza elettronica mezza jazz vagamente jazz col cantato parlato vabbè spoken word tipo e poi ha fatto progetti appunto faceva tipo il ballrino hip hop ha fatto anche hip hop poi ha fatto quell'album cioè poi pittore vabbè modello fatto nel 2000 che è boh 2002 2006 un album l'unico album forse che ha fatto da cantatore è When molto bello molto bello poi fa tutte le colonne sonore pure l'appassionato di prog si muove tra il prog il folk la canzone d'autore blues non lo so poi fa tutte le colonne sonore dicevo dei suoi film cioè quindi lui di questi film fa tutto scrive dirige recita cura la fotografia quindi questo Buffalo 66 Buffalo 66 è un film sui generis è un film che ha un approccio proprio da d'artista visivo capito pittorico ogni scena a livello cromatico molto curata molto bella montaggio è tutto strano è particolare sembra un film girato da uno che non è un vero regista capito a volte sembra un musical a volte ha delle trovate strane è bello per quello c'è un fascino particolare poi lui ottima interpretazione c'è anche il livello comico c'è una bella vena comica grottesca dramma commedia bello con Cristina Ricci la quale insomma poi disse lei interpreta questa ballerina di tip tap che lui Vincent Gallo Billy non vedo come cazzo si chiama personaggio appena uscito dai galera rapisce letteralmente rapisce per spacciarla con i suoi genitori come sua fidanzata perché i suoi genitori non sanno che lui è stato in galera ma gli ha detto che stava in giro non mi ricordo se il musicista o quale carriera gli ha detto per mentendo insomma lei questo film è abbastanza vessata è un buon film sulla sindrome di Stoccolma da da sto personaggio e quanto pare Vincent Gallo persona e Vincent Gallo personaggio sono molto sono molto simili tant'è che lei diceva che lui si dice sempre per questo famoso metodo Stanislavski per entrare nel personaggio lo ha trattato in merda veramente nella macchina in varie scene dice no lo faceva per entrare nel personaggio come no dicesse quello il metodo Stanislavski serve solo per comportarsi nel merda e mai che si comportano bene per interpretare un personaggio positivo insomma poi inizialmente parlava bene di questo di questa esperienza Cristina Ricci che lì c'era tipo 16 anni era il suo primo ruolo su cui lei in cui lei stava sul set senza la madre per ditte e quindi Vincent Gallo la trattava un po' come un pupazzo come una bamboletta e poi negli anni a venire ha raccontato insomma che è stata speranza perché questo Vincent Gallo sbroccava era uno stronzo e tutti hanno detto che Vincent Gallo è uno stronzo che Vincent Gallo è poi c'ha le sue dichiarazioni maschiliste trampiane per tornare al discorso di prima repubblicane mezze razziste si è fatto terra bruciata ha detto male di tutti lui si considera un genio vende il suo sperma su internet fa l'escort perché poi ha fatto quel film lì che sarà un piccolo calcio non è che c'è un grande successo anche se c'era Mickey Rourke Ben Gazzara che c'era insomma non è che ha incassato molto ha diviso un po' la critica poi è diventato un cult perché vabbè scene iconiche e poi ha fatto un altro film secondo la regista che si chiama appunto The Brown Bunny che è il film dove c'era Closé Viní e la famosa scena del bocchino la famosa scena del poppino fatta proprio realistica proprio porno quella poi era la sua fidanzata insomma questa scena esplicita è una scena su cui è il fulcro del film tutto il film era da intorno a quel pompino si è rovinato la carriera da lì insomma nessuno gli ha più prodotto un film poi un po' si autoproduce ma non credo ci abbia soldi ormai per farlo in film da solo ha fatto film si poi ha fatto vari film come attore ma come come regista quello è il suo ultimo film diciamo di successo se non un po' flop per quella storia poi ha fatto un altro film Promises Written in Water Promises Written in Water il suo terzo film che non sono riuscito a vedere perché non l'ha più distribuito pensa quant'è matto cioè ha fatto questo film lo ha presentato in qualche festival poi non l'ha distribuito quindi questo film non esiste cioè nessuno l'ha visto io ero curioso di vederlo perché insomma e niente poi dato le polemiche insomma la terra bruciata che si è fatta nell'ambiente a forza di male di tutti e delle sue posizioni ultra conservatrici da matto del suo temperamento insomma così irrascibile ingestibile dice e di questo film dei Brown Bunny che insomma lo fece apparire come un maniaco sessuale ha lasciato il cinema praticamente ha lasciato il cinema e per tipo dieci anni e passa ha fatto solo anche piccolo ruolo ha fatto l'Enigma di Kasparhausen non mi ricordo di chi è di Herzog non mi ricordo non mi ricordo ho detto una cazzata comunque qualche piccola partecipazione come come attore qualche filmetto ha fatto ultimamente è tornato con un film che si chiama Shut In dovrebbe essere un thriller del 2022 che non devo ancora vedere e quello è stato il suo grande ritorno al cinema forse non lo so se farà più dei film come come regista è un peccato perché veramente io non capisco come uno che c'è quel talento lì che poi insomma è stato baciato la fortuna perché insomma belloccio piacente che la vocetta è un po' così bello però tipo Marlon Brando c'è comunque un viso molto maschio però c'è quella vocetta e però debba essere un ma un così coglione delle stronzate assurde fa quelle sparate io non so se trolla quando parla di donne quando parla di politica come cazzo fanno appresso a Trump cioè come fai a far bella musica e essere trampiano solamente quelli che fanno che seguono Trump i musicisti trampiani fanno musica del merda non è possibile e invece questo qui pare che per forza fa il provocatore a tutti i costi di essere basti al contrario quindi deve andare presso ai repubblicani e a Trump non lo so comunque Buffalo 66 è un film da per quei pochi non l'avessero visto da recuperare è veramente particolare è aggettivo odioso ma è un film una piccola gemma del cinema indipendente che poi oggi è diventato una figurina per ragazze alternative sui social è diventato scene molto iconiche musica sempre sul prog la musica del film e quindi è un film da recuperare insieme agli altri film che ha fatto come attore sicuramente Arizona Dream e tutti gli altri va bene credo di aver detto tutto per questa sesta puntata che si conclude qui vi ringrazio per l'attenzione per la pazienza con cui seguite quei pochi purtroppo penso i miei sproloqui ogni settimana e vi ringrazio appunto per questa fedeltà vi saluto qui da Monteviascone vi do appuntamento a martedì prossimo con abbraccio su Spotify più YouTube Google Amazon bla 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 ciao